L'esperienza nostra qui in Nepal a mio parere è stata una cosa emozionante sicuramente per tutti, per il lavoro di squadra che abbiamo fatto e che è stato fondamentale per riuscire a smontare l'ospedale come stiamo facendo ora, proprio perché è il lavoro di gruppo che ci ha permesso all'inizio di montare il nostro ospedale in circa 24 ore ed è stato un lavoro improbo che è stato possibile per il lavoro di tutti noi messi insieme. Per quanto riguarda ciò che abbiamo fatto per i Neufalesi siamo sicuramente contenti per un lavoro soprattutto ambulatoriale più che chirurgico, io vengo dall'esperienza di Haiti dove indubbiamente abbiamo lavorato tanto in sala operatoria, qui è stato soprattutto l'apporto alla popolazione, l'apporto ambulatoriale che forse e si può comprendere vista la situazione dove sono, le manca un po' a loro tutti. Quindi diciamo che anche se io personalmente non ho avuto nessun evento particolare, è stato proprio un lavoro di quotidianità importante e continuativo che è stato a mio avviso utilissimo veramente per tutti, per tutta la popolazione e sono convinto che ne sono molto contenti e avranno dispiacere a vederci andare via.